Un nuovo richiamo alimentare è stato disposto dal Ministero della Salute ad essere ritirate alcune confezioni di pasta biologica, la curcuma e pepe, a marchio pasta natura. Il ritiro è scattato perché all'interno della curcuma è stata rilevata presenza di ossido di etilene, un gas utilizzato per la sterilizzazione di alcuni alimenti conservati, tra cui spezie, impiegato anche come pesticida. Data la sua tossicità ad alti dosaggi o per un tempo prolungato, l'ossido di etilene risulta cancerogeno, il suo uso in Europa è vietato. Le confezioni richiamate prodotte nello stabilimento di Villa Falletto in provincia di Cugno sono tutte da 250 grammi e riguardano i lotti. Fusilli, lotto numero 2801 2024, penne lotto numero 0303 2024, penne lotto numero 2602 2024, penne lotto numero 2603 2024, gnocco sardo lotto numero 2801 2024. Grazie per la visione!